Zofarm è presente alla Fiera Zootecnica Internazionale di Cremona dal 2010. Per noi è importante essere qui presenti perché possiamo interloquire con i nostri clienti anche in un modo più rilassato e conoscere nuovi clienti e anche a noi interessa poi per la commercializzazione dei nostri prodotti di incontrare agenti e aziende commerciali. Infatti quest'anno abbiamo anche valorizzato i partner della nostra azienda da chi lavora con noi per il Piemonte, per la zona di Modena e per il Sud Italia. L'azienda poi quest'anno da 4 anni in realtà sta promuovendo un prodotto che è questo il cui formato e la cui tecnologia aiuta quella che è la digeribilità dei foraggi. Infatti il nostro titolo della Fiera quest'anno è Integriamo l'animale per migliorare la digeribilità dei foraggi. Cosa a cui noi crediamo e a cui noi diamo molta importanza nella gestione delle aziende per i nostri clienti.